51. Diminuisce di molto Me ne andai dalla vita mentre mi avviavo con l'America verso orizzonti più distesi di giustizia. Chi vuole la tua morte? Ho fatto di tutto per dimenticarlo. Che cosa successe subito dopo lo sparo? Mi sentì sprofondare sul pavimento della macchina e dopo qualche istante morì. I media dissero che la tua morte avvenne in ospedale. Era come se fossi morto. Mi ero già slacciato dai vincoli che mi legavano al corpo. Che sensazione provassi al momento del distacco? Una sensazione di incredulità. La morte violenta non mi dette modo di abituarmi all'idea di essere morto. Tanto che partecipai ai miei funerali. Pensando che lì era il mio corpo e lì dovevo essere anch'io. Perché ordinarono la tua morte? Ho fatto di tutto per dimenticarlo. Non vorresti che la verità si sapesse? Dove sono adesso l'unica verità per me e l'immedesimazione nella luce? Commento Già nel piano astrale che è il piano di esistenza successivo a quello fisico, il senso dell'io e quindi il desiderio di vendetta diminuisce di molto perché già l'individuo di media evoluzione inizia a comprendere che appartiene a qualcosa molto più grande di lui. Per questo molte entità dichiarano semplicemente di voler dimenticare.